La cartolina aveva l'esempio di quello che ha il telefonino oggi. Oggi per esempio fai una fotografia, la mandi subito, l'hai visto subito e tu fai vedere in quel momento lì dove eri. Ecco, adesso ti arriva adesso, infatti è la morte della cartolina, la cartolina muore, non ha più senso di esistere, col telefonino, con l'iPad. Tu fai una foto, te la mando, in due secondi ce l'hai lì, te la stai guardando, stai guardando il panorama. Allora la cartolina, no, i tempi erano molto più lenti di adesso. Anche se la posta funzionava meglio di adesso, questo devo dirlo, perché per esempio c'è una cartolina, questo lo voglio dire perché è curioso, che sotto al franco bollo c'è scritto ci vediamo oggi pomeriggio a Savona, ci vediamo oggi pomeriggio alle 4, al solito posto, è stata spedita al mattino, l'appuntamento era per il pomeriggio, cioè la posta veniva consegnata due volte al giorno in città, per cui una coppietta aveva il tempo di comunicarsi. Ecco che cos'era la posta. Tiamo conto che la posta andava a Milano, a Torino, a Venezia, e poi arrivava in un giorno la posta, ecco, la lettera, la cartolina, e anche la lettera. Bisogna tenere conto che il 1900, proprio l'anno 1900, è stato l'anno del boom della cartolina. Perché? Perché coniugava il vecchio discorso della posta con l'immagine. I fotografi avevano capito che mettendo, attaccato a un foglio di carta, una fotografia con l'indirizzo e tutto, potevano spedire il luogo dove essi erano, dove soggiornavano, potevano spedirlo a casa loro e vedere per la prima volta nella storia, diciamo, vedere i luoghi dove avevano trascorso le vacanze, il lavoro o lo studio, come succedeva. Cartolina Savona di interessanti ce ne sono state, una è quella del 1800, cartolina non illustrata, ma del 1899, disegnata, non sappiamo da chi, forse da Bianchi, ma non si sa, da un cartellonista di allora, di Liberty, che rappresenta un disegno, una testa di una donna Liberty, molto bella, colorata, con dei salvadanai, ne sono state fatte solo 50 coppie come intero postale, cioè col franco bollo stampato e 50 coppie come cartolina, cioè pochissime, dove il prezzo di queste cartoline veniva utilizzato per beneficenza, per darlo alle mogli e i figli di questi operai che erano morti nella siderurgica savonese per la distruzione di una silviera che era venuta giù una colata di ferro e li aveva presi tutti quanti. Altre cartoline interessanti, per esempio quella della venuta del re a Savona nel 1908 durante le manovre militari che furono grandiose, erano a livello nazionale, tra le quali c'è quella del re in visita alla siderurgica una colata, mentre si sta guardando una colata di acciaio alla siderurgica savonese, è una cartolina fotografica. Teniamo conto che nel libro l'unica macchina che si vede teniamo conto che l'unica macchina che si vede è quella del re. In tutto il libro, su 800 immagini, non c'è neanche una macchina, sono solo cavalli, carri, tombarelle, diligenze e roba varia. Queste cartoline poi si ritrovano per esempio nei bagni, nei bagni troviamo dei gruppi di persone enormi che si mettevano tutti lì in posa per farsi fotografare. Il fotografo lì vendeva, ognuno che era lì o di testa era una cartolina, una fotografia, però noi diciamo che sono cartoline perché sono state spedite, anche se poi sono fotografie che noi chiamiamo cartoline fotografiche che sono diverse dalle cartoline normali, quelle della solita veduta o delle solite zone. Interessante è stato anche andare a cercare i quartieri, perché ci sono delle foto delle fornaci, per esempio, che sono interessantissime, che non c'era ancora via Vittorio Veneto, c'era solo via Saredo, si vedono i pozzi dove pescavano l'acqua lì vicino alla spiaggia, dove cocevano i mattoni, le stoviglie, insomma sono dei parti interessanti. Infine ci sono le cartoline sportive, anche le interessanti, c'era già il cannottaggio, la vela, il tiravolo allora, che era importante, il ciclismo. Abbiamo delle cartoline, ci sono due cartoline dove ci sono delle donne sulle biciclette a Lavagnola del 1900, se non sbaglio del 3. Queste qua arrivavano dal Veloclub di Nizza in Francia per venire a fare una corsa a Lavagnola in bicicletta. Donne, parliamo di emancipazione femminile, donne. Ecco, erano anche tutti i bambini della fratellanza ginnastica savonese che passano per Savona con quelli davanti con i tamburini, con i tamburini, sono benessi, il gruppo sportivo a Onzo di ginnastica, perché allora il calcio era proprio ai primordi. Poi ci sono i carnevali di Savona che noi pensiamo sempre ai carnevali di Bevilacqua degli anni 50, ci sono dei carnevali bellissimi di quegli anni lì, con tantissima gente, con carri, c'erano premi ai carri alle maschere, alle carrozze meglio adevate, al negozio meglio addobbato, alle maschere singole, ai gruppi, delle cose che ce le siamo dimenticate tutte e quanti. io cosa vorrei... Io chiuderei con una battuta, se ti va, se ti va, nel senso, le cartoline, teniamo al centro del discorso, le cartoline. Per chiudere con la battuta potremmo dire in una frase cosa servivano allora e cosa servono oggi? Per niente oggi. Beh, se ci raccontano una storia di una città, secondo me... Ah, cosa servono? Quelle cartoline? Ah, non ho pensato alla cartolina. No, quelle cartoline. Ma quelle cartoline, allora non le... Guarda, allora le prendevano e le riponevano, probabilmente dentro un libro, dentro un cassetto, perché c'è stato per anni e anni che la cartolina non se ne parlava proprio. Ma le spedivano? Cosa servivano? No, la cartolina quando veniva spedita veniva per far vedere a casa dove quello... lo scrivente, il mettente, dove era, ecco, dove si trovava, ecco. però c'è da dire questo, che questa massa di cartoline enorme che abbiamo visto in parte sono andate distrutte e in parte venivano riposte nei cassetti. Sono state ritrovate una quarantina d'anni fa, 40 anni fa, diciamo, perché il boom della cartolina nasce una quarantina d'anni fa. Prima le cartoline non si trovavano. Noi abbiamo cercato di dare un'immagine della Savona, come era, un flash di come era Savona in quel periodo lì. E erano le prime immagini che si hanno dalla città fatte a livello chiamiamo industriale perché poi le cartoline venivano riprodotte o venivano prodotte in centinaia o migliaia di esemplari addirittura venivano riprodotte in poche decine di esemplari perché sono delle cartoline fotografiche che sono riprodotte in poche decine sono rarissime sono quelle che noi collezionisti cerchiamo però noi quello che di Savona ci interessa è sapere come era in quel periodo e come Savona stesse cambiando anche perché non c'è nessuno di noi che ce la può raccontare queste cose qua. Negli anni 30 negli anni 40 abbiamo i nonni abbiamo qualcuno di noi che insomma che è vivo che l'ha vissuta e se la ricorda ma la Savona di quel periodo lì riteniamo che non ci siano immagini sufficienti che la possano rappresentare per quello che abbiamo voluto fare questo lavoro perché se non lo facevamo questo lavoro non si faceva più non c'era un collezionista che aveva tutte le cartoline abbiamo dovuto contattare anche altre persone altri individui che avevano collezioni o erano collezionisti avevano delle immagini in casa per ampliare il più possibile questo progetto qua ci siamo riusciti ce l'abbiamo fatta e noi sarebbe nostra intenzione di fare la seconda parte la parte che va dal 13 che poi comincia il tram le fonivie Savona cambia si va verso la prima guerra mondiale si va verso il fascismo e poi c'è tutto il resto arrivando fino alla seconda guerra mondiale sarebbe un lavoro interessantissimo perché c'è un sacco di gente che ha delle immagini e moriranno noi abbiamo salvato con le nostre collezioni abbiamo salvato parecchie immagini che non sarebbero state buttate nella spazzatura grazie a tutti